Mi diverto a realizzare gioielli con diverse tecniche, diversi materiali. Sono una quindicina d'anni che faccio questo tipo di attività di hobby. I pezzi sono realizzati con diversi tipi di materiale, hanno ognuno una durata da un'ora fino a magari un mese. Ho utilizzato delle pietre, degli svaroschi, dell'argento e come base del tessuto. Sono tutti cuciti con del filo. Inizialmente scelgo la tonalità del colore che voglio realizzare, poi do forma al tessuto e di conseguenza inizio a cucire così, spontaneamente come mi vengono. Poi mi piace di più posizionare il pezzo. Utilizzo anche le cialde del caffè reciclate, quelle in alluminio. Dopo io le schiaccio, le modello con le pinze e magari gli do anche un tocco di colore con degli smalti. Assemblo sempre con delle pietre, delle perline a seconda della fantasia di quel momento. Faccio anche dei gioielli con della seta. Si chiama Shibori Ribbon, arriva dall'America e dipinto a mano. Attorno alla seta li lavoro con dei cristalli svaroschi, delle pietre, delle perline, tutte cucite su una base di tessuto. A seconda dell'esigenza metto una catenina in argento oppure un semplice cordoncino per renderlo meno elegante, in modo da poterli utilizzare anche con un abbigliamento casual. Ho una pagina Facebook dove pubblico tutti i lavori che realizzo, che si chiama Rosita nel paese delle meraviglie. Grazie a tutti.